E' l'1.01, buonasera, benvenuti a quest'ultima edizione del Telegiornale. Cominciamo subito da quello che è successo questa sera in Parlamento, dove con scrutinio segreto è passato un emendamento alla legge anticorruzione che ammorbidisce il reato di peculato. A votare a favore sono state sicuramente le opposizioni di destra, ma ci sono anche numerosi voti che vengono sicuramente dalle file della maggioranza ira all'interno del Movimento 5 Stelle, il capogruppo Duva ha detto o passa o si va tutti a casa, Salvini ha cercato di smorzare i toni, ma si parla anche di mettere la fiducia sul provvedimento. Vediamo come è andata. Il coppo di scena arriva in serata, in aula alla Camera e il Governo è battuto sul disegno di legge anticorruzione tra le sultanze delle opposizioni di centrodestra. Il passo falso della maggioranza giallo-verde è su un emendamento a voto segreto presentato dal deputato ex 5 Stelle Catello Vitiello, su cui il Governo esprime parere contrario e che riguarda il reato di peculato. La proposta passa con 284 voti a favore, 239 contrari, la differenza fa 45, tra cui secondo i calcoli ci sarebbero 36 franchi tiratori, ma per il PD sarebbero molti di più, visto che i Dem hanno votato contro l'emendamento Vitiello. Comunque è una voragine quella che si apre tra le file della coalizione. Infatti, come un riflesso condizionato, scatta la caccia al colpevole. Secondo il Movimento, il suduro sarebbe partito dalle file della Lega per mandare un segnale agli stessi 5 Stelle in vista di un altro voto cruciale, quello sul decreto sicurezza, caro proprio a Salvini. Ed è proprio un deputato del Carroccio che preferisce l'anonimato a confermarlo. Abbiamo portato a casa un punto sul disegno di legge anticorruzione, spiega, fino ad ora abbiamo ottenuto poco, ora i 5 Stelle abbasseranno le pretese. Tra i grillini la tensione è alta. Infatti il capogruppo Francesco Duva sbotta, quello che è accaduto oggi in aula è un fatto gravissimo, così non si va avanti. A questo punto interviene Matteo Salvini che prova a frenare. Il voto in aula, dice, è assolutamente sbagliato, bislacco, è un incidente di percorso. Il voto segreto io lo abolirei. La posizione della Lega la stabilisce il segretario, il provvedimento arriverà alla fine come concordato dalla maggioranza. Ma nel Movimento la linea è solo una. È stata la Lega a tradire il patto. Nessuno del Movimento ha votato a favore dell'emendamento. Questo è sicuro. Se il disegno di legge non passerà, si andrà a casa. Domani, riunione congiunta dei gruppi parlamentari 5 Stelle, convocata da Di Maio. E domani anche la giornata del giudizio sulla nostra legge di bilancio da parte della Commissione europea. Si sa che la preoccupazione è concentrata soprattutto sull'altissimo debito pubblico italiano. Una preoccupazione che oggi è stata sottolineata, se ce ne fosse bisogno, dal nuovo balzo dello spread e dal fatto anche che non ci sono stati risultati entusiasmanti nel collocamento dei nuovi BTP Italia. E poi è arrivato l'allarme dell'Associazione Banca Italiana sui mutui. Vediamo. L'appuntamento è fissato per la tarda mattinata di domani. La Commissione europea pubblicherà le proprie valutazioni sui bilanci dei paesi dell'Eurozona e allora sapremo. Il rischio che nei confronti dell'Italia si apra una procedura di infrazione non tanto per lo sforamento del deficit ma per il debito è altissimo e ci costerebbe davvero caro. È per questo che oggi il ministro dell'economia Giovanni Tria ha consegnato ai microfoni, uscendo dalle commemorazioni per i cento anni dell'emiciclo di Montecitorio, solo un laconico. Ovviamente sono preoccupato. Parlava dello spread il ministro, ma non solo. Lo spread che oggi ha chiuso a quota 326 dopo aver sfiorato i 335 punti, mentre arriva al bollettino dell'ABI, l'Associazione delle Banche, che segnala come i mutui stiano cominciando a risentire di tassi più pesanti proprio a causa dello spread. La stessa preoccupazione espressa anche dal neoeletto presidente dell'autorità bancaria europea, l'italiano Andrea Enria, al Parlamento europeo. E così non stupisce né l'andamento della borsa, oggi tutti i mercati sono stati in perdita, ma Milano più di tutti, né il risultato, a dir poco, scadente della collocazione del BTP Italia. Giovedì con gli investitori istituzionali si chiude, ma nei primi due giorni il titolo ha raccolto 722 milioni di euro. Lo scorso anno, in un giorno, aveva fatto 2 miliardi. L'ultimo avvertimento è stato ancora una volta quello del presidente dell'Eurogruppo, Mario Senteno. Il rispetto delle regole dice è a vantaggio sia dei singoli paesi che della collettività. È giusto che l'Italia voglia risolvere i propri problemi, ma non mettendo a repentaglio il consolidamento di bilancio. Le ONG sono di nuovo nel mirino della Procura di Catania, che ha indagato 24 persone che hanno lavorato a bordo della nave Aquarius per smaltimento illecito di rifiuti. 8 di queste persone sono membri dell'Associazione Medici Senza Frontiere, che si difendono e respingono al mittente le accuse definite illegittime e miranti solo a delegittimare il lavoro di soccorso in mare. 24 indagati per smaltimento illecito di rifiuti speciali e pericolosi e il sequestro della nave Aquarius ancorata a Marsiglia. Questi i provvedimenti decisi dal GIP al termine di una nuova indagine dei magistrati inquirenti della Procura di Catania, che coinvolge le organizzazioni non governative. Tra gli indagati, 8 fanno parte di Medici Senza Frontiere e c'è anche il comandante di Aquarius. Secondo le accuse, suffragate anche da alcune intercettazioni, due imbarcazioni impegnate nelle operazioni di soccorso in mare per conto della ONG, O Sprudence e la Aquarius, dall'inizio del 2017 fino allo scorso maggio, avrebbero violato le norme per lo smaltimento dei rifiuti inquinanti, al fine di risparmiare sui costi. Eliminando in modo illecito, con la complicità di due società specializzate, scarti alimentari, indumenti usati e materiale sanitario. Alimentando il rischio, sostengono i PM, di trasmissione di malattie come scabbia, meningite, tubercolosi e persino il virus dell'HIV. Accuse inaccettabili e sproporzionate al fine di delegittimare ancora una volta le ONG, sostiene Medici Senza Frontiere. I vertici di MSF assicurano verifiche su eventuali errori commessi nella catena di smaltimento attraverso agenti marittimi e società per lo smaltimento dei rifiuti nei porti, ma sottolineano l'inconsistenza dei rischi sanitari paventati. Siamo abituati a combattere malattie come ebola e colera e sostenere che malattie così gravi come la tubercolosi si possano trasmettere con gli indumenti usati è frutto di pura ignoranza, dicono i medici dell'organizzazione tirati in ballo dall'inchiesta. E a proposito di inchieste, c'è il Russiagate che incombe sulla Casa Bianca ormai da tempo. In serata i legali del Presidente hanno fatto sapere che Donald Trump ha risposto, ha mandato le sue risposte scritte alle domande che gli aveva posto il procuratore speciale Mueller. Sono domande, ha detto uno dei suoi legali, Rudy Giuliani, che in molti casi sembrano travalicare lo scopo delle inchieste e pongono anche dubbi di costituzionalità, ma da parte della Casa Bianca c'è stata ampia collaborazione. Questo è un altro passo in questa lunga storia, cominciata con l'elezione di Donald Trump e il sospetto di ingerenze da parte della Russia nella campagna elettorale. E adesso andiamo a vedere cosa è accaduto all'alba di questa mattina nella periferia sud-est di Roma con quella maxi-operazione della polizia municipale contro il clan Casa Monica. Sono stati impiegati 600 agenti nel blitz che è cominciato alle prime luci dell'alba e ha dato il via allo sgombero di otto villette costruite abusivamente dalla famiglia dell'organizzazione criminale. Da oggi inizierà la demolizione. Abbiamo riportato la legalità in una zona dimenticata. ha commentato la sindaca di Roma, Virginia Raggi, che era presente al blitz. Sul posto c'erano anche il premier Conte e il ministro dell'interno Salvini. Prima di salutarci parliamo di calcio e dell'Italia che è tornata a vincere 1-0. Il risultato dell'amichevole che c'è stata questa sera contro gli Stati Uniti, ultimo impegno del 2018, uomo partita, è stato l'interista Politano che ha segnato al quarto minuto del recupero al termine di una eazione iniziata da Verratti. Politano era entrato sette minuti prima al posto di Lasagna. Gli azzurri hanno dominato la sfida ma, come è capitato, altre volte hanno incontrato difficoltà ad andare in rete. Da segnalare anche il debutto del primo millennial della nazionale italiana. Eccolo qui, il diciottenne di origini ivoriane, Moise Ken. Con la partita di stasera la squadra azzurra chiude l'anno. Nel 2019 sono in programma le qualificazioni agli europei del 2020. Intanto, se fatta l'1.10, noi ci fermiamo qui come sempre domani mattina alle 7. Ritorno all'informazione. Arrivederci e buonanotte.